Un rischio che è più di un rischio, ma per ora meno di una certezza matematica. L'escalation di contagi dell'ultima settimana ha di fatto riallineato l'abruzzo alla media nazionale, con due province in particolare a guidare l'impennata, l'Aquila e Teramo, seguite da Chieti e Pescara. Dunque il rischio zona gialla è all'orizzonte e sarà importante capire al più presto di cosa sia figlio questo aumento. Della vita sociale ritrovata, dell'esorbitante numero di tamponi fatti per ottenere il Green Pass, che poi porta alla scoperta di positivi asintomatici, delle ancora tante persone non vaccinate, in Abruzzo sono circa 180.000. Di fatto siamo già oltre la soglia dei 50 casi ogni 100.000 abitanti, con oltretutto le terapie intensive che superano il 6% dei posti occupati e ricoverati in area medica che vanno oltre il 5%. Sembra di essere tornati a cinque mesi fa, anche se, per fortuna, continua ad essere bassissimo il numero dei decessi. Intanto prosegue la campagna vaccinale, oggi per esempio a Pescara, nella scuola media Rossetti. Così come proseguono le proteste dei No Green Pass. Li vediamo, un gruppo non troppo numeroso, proprio davanti alla scuola Rossetti. In questa giornata particolare i NoAx dicono che l'anno scorso avete chiuso le scuole, questi ragazzi hanno avuto problemi a fare la DAD, eccetera. Quest'anno le scuole sono aperte, forse anche grazie al vaccino o no? Allora, le scuole secondo me quest'anno sono aperte veramente grazie al vaccino, perché fino ad oggi, dalla riapertura delle scuole, non c'è stato neanche un caso di ragazzi che sia stato positivo al Covid. Mi sembra strano ancora questa manifestazione avanti a una scuola che noi abbiamo aperto oggi per fare la seconda dose del vaccino Moderna e chi volesse può anche fare la prima dose. Dobbiamo stare molto attenti. Ci stiamo riavvicinando a dei numeri che non sono piacevoli e dobbiamo continuare a mantenere e rispettare le regole. Lei ha parlato poco fa anche con il rappresentante dei NoAx che fuori sta con il megafono dicendo delle cose. A che cosa vi siete detti? Che purtroppo i casi stanno riaumentando, quindi dobbiamo essere tutti vaccinati, dobbiamo arrivare ad essere tutti vaccinati. La reazione? Non è stata negativa, non mi ha detto né sì e né no. Infine solo per dire chi fa le vaccinazioni, vedo che sono operatori dell'esercito. Sicuramente abbiamo organizzato questa cosa in collaborazione con l'esercito e con l'AS di Pescara.